La prima nel 1998, una raccolta singola di poesie e amore del nome Trammetti di Luna. Una seconda opera nel 2011 dal nome Trasparenze, edita a Letti. L'opera Vivitti Poetici nel 2016, edita da Evo e Selezioni. E con entrambe partecipa a Prego Firenze, classificandosi nel 2018 e nel 2019. E pubblica invece nel 2019 La Solitudine del mare d'inverno, che è un collage di poesia e foto che è un'attrice pubblica ed educazione della giornata mondiale del libro. E nel 2019 il libro Evali Scienze, di mezzerai edizioni, con cui partecipa al Prego Firenze nel 2021. E si classifica, e questo raccolta è di poesie e rappresentazione a cura del professor Massimo Pasqualone, che ringrazio. E la povertina è un ripeto a mano della piettrice Maria Basile, che ringraziamo a sua volta. Io vorrei iniziare la presentazione di Sandra con la lettura di una poesia, che a me ha colpito moltissimo. Allora, poesia.